Buongiorno a tutti, sono Benedetta Torre alias Susanna, infatti siamo qui al Teatro della Pergola per il Festival del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a provare Le Nozze di Figaro. Un'opera che oltretutto è andata in scena proprio qui in Italia la prima volta, prima è andata ovviamente in scena a Vienna, ma il debutto italiano è stato proprio qui alla Pergola nel 1788. Quindi siamo onoratissimi di ridar vita a questo capolavoro mozzartiano con la regia storica di Jonathan Miller. Speriamo davvero di farvi addentrare in questo bellissimo mondo settecentesco. Vi aspettiamo quindi qui numerosi per le recite che saranno il 7, l'11, il 14 e il 15 maggio alla Pergola. Vi aspettiamo numerosissimi. Ciao!